Il governo Draghi deve far fronte non solo all'aumento dei contagi, ma anche allo scontro con il mondo sindacale spaccato al suo interno, che ha confermato lo sciopero per il 16 dicembre prossimo. Quindi si annuncia per Draghi un Natale difficile? Subito dopo la pubblicità. Il governo Draghi deve far fronte non solo all'aumento dei contagi, ma anche allo scontro con il mondo sindacale diviso al suo interno, ma CGL e Will hanno confermato lo sciopero del prossimo 16 dicembre. Quindi si annuncia un Natale difficile per Draghi, che peraltro si è innervosito alla notizia ieri di questo sciopero e però pare che voglia anche evitarlo a tutti i costi. Draghi si è innervosito perché con Landini soprattutto si era creato una specie di intesa sul fatto che a questo paese bisognava assicurare una coesione nazionale. Cioè di fronte ai guasti provocati dalla pandemia, alla crisi sociale ed economica, Landini e Draghi su questo tema di fondo si erano trovati d'accordo. Non dimentichiamo l'abbraccio di Draghi a Landini il giorno dell'assalto dei fascisti alla CGL. Draghi in questo momento quindi si trova, non è deluso, ma non capisce, visto che lui ritiene di aver fatto tutto quello che era possibile fare sul piano delle aliquote dell'IRPEF, sulle pensioni è stato rinviato tutto. Insomma, lui ritiene di aver fatto... Si sente quasi un po' tradito. Sì, però comprende anche questo, cioè che Landini non parla a titolo personale. Landini, come bombardieri della Will, rappresentano milioni di persone e sentono la pressione di questi milioni di persone che hanno problemi. E quindi loro devono rispondere. Non sono dei battitori liberi. Quindi io credo, per venire a una possibile conclusione, che il Ministro del Lavoro Orlando si stia dando molto da fare per trovare una composizione, visto che è in discussione alla legge di bilancio. Quindi è chiaro che la pressione per ottenere di più sulla legge di bilancio per evitare che lo sciopero avvenga. E speriamo che queste mediazioni... Però attenzione che lo scopo comune è quello di tenere il Paese insieme. Sei d'accordo Aldo Cazzullo? È uno sciopero politico o ha ragione Landini quando dice che la ripresa è reale solo per alcuni, non per tutti? In serata lo stesso capo della CGL ha detto che loro sono disponibili a un confronto anche prima dello sciopero, però il Governo deve dare un segnale di cambiamento molto forte. Landini ha sicuramente ragione quando dice che la ripresa non vale per tutti. In Italia c'è un'enorme questione salariale. Il lavoro è poco pagato e troppo tassato. Però la manovra va nella direzione giusta, perché abbassa l'IRPEF, soprattutto negli scaglioni più bassi. L'altro giorno Corriere ha pubblicato un'intervista di Daniele Manca al direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini che raccontava come il 90% dell'IRPEF lo paghino i lavoratori dipendenti e pensionati. Quindi l'IRPEF non fotografa la ricchezza degli italiani, fotografa la ricchezza dei contribuenti onesti. Abbassare le tasse ai contribuenti onesti è un segno, secondo me, positivo. Ora, il sindacato fa il suo mestiere. C'è il rischio che uno sciopero il 16 dicembre non sia compreso da una buona parte dell'opinione pubblica. Non perché non ce ne siano le ragioni, ma perché comunque siamo sotto Natale, la gente si sposta, ci sono i rifornimenti delle merci, sarà un Natale per fortuna meno drammatico di quello dell'anno scorso. La mia sensazione è che i sindacati rischiano di non essere compresi da una parte del Paese. Giuliano Guidapardi, ovviamente i sindacati che scioperano, CGL e Will, dicono che si mobilitano per i ceti medio-bassi. Quindi questa manovra non redistribuisce abbastanza? Guardi, intanto lo sciopero con cinismo è sempre un segno di buona salute dell'economia, perché quando ci sono istanze, perché venga redistribuito il reddito, vuol dire che c'è un reddito da redistribuire che dopo i due anni che abbiamo passato è già un ottimo segnale. Non credo che questa volta vada a vantaggio dei lavoratori, perché quando lo sciopero non è unitario purtroppo si incrina e anche la data, come diceva giustamente Aldo Cazzullo, non è delle migliori. Nel merito della sua domanda, mi stupisce che Landini e Bombardieri vadano ad uno sciopero per difendere, come al solito, chi è garantito e chi in questo momento ha una oggettiva contribuzione, perché giustamente abbiamo una diminuzione delle loro tasse, e non vadano invece a proclamare uno sciopero a difendere le categorie di alcuni lavoratori che sono essenziali per la vita democratica della Repubblica e che invece, per esempio i giornalisti, i giovani giornalisti sono come lei sa e come il direttore Padella Rosà senza contratto, e quando i grandi giornalisti come voi saranno avviati alla pensione o al prepensionamento, come è successo ai vostri 53 colleghi di Repubblica, noi saremo privi di un importante presidio democratico che è quello della libera stampa. Su questo credo che sarebbe un'occasione migliore di sciopero. Grazie per la solidarietà veramente ai giornalisti, però ho l'impressione che il giudizio di un sindacato che si occupa solo dei garantiti sia, come dice, ingeneroso, perché non è che si occupa di quelli che hanno la pancia piena, perché sennò sembra che c'è un mondo protetto o rappresentato da Landini, da Bombardieri, che sta bene, tranquillo. Diceva prima Cazzullo una cosa giusta, cioè che effettivamente c'è ancora uno squilibrio di tipo sociale straordinariamente grave e la pandemia ha aggravato tutto questo, quindi io credo che il sindacato, come dicevamo prima, si faccia carico di quelli che sanno peggio. È così, dottoressa Luini, ma glielo chiedo perché prima Aldo Cazzullo si chiedeva il rischio per i sindacati è che questo sciopero non venga tanto compreso dall'opinione pubblica. Lei pensa che in un momento in cui tra l'altro i contagi da coronavirus sono in aumento la gente capisca questo sciopero? Ma io parto sempre dal presupposto che la gente capisca, però è vero che lo sciopero di per sé è un linguaggio, è un modo di parlare, un modo di esprimere un disagio che evidentemente non si è espresso in altro modo. Quindi è da ascoltare, secondo me c'è una grande pressione a tanti livelli, quindi se è vero che ci vuole coesione, in questa coesione però bisogna anche ascoltare il linguaggio di chi in questo momento è in oggettiva difficoltà, perché la difficoltà esiste. Quello che dicevi tu prima Antonio Padellaro, abbiamo detto che i contagi sono purtroppo in aumento, anche le vittime oggi 99 morti, il Super Green Pass è in vigore da praticamente 48 ore e sta andando tutto molto bene, pare che funga anche da spinta per le prime dosi. Oggettivamente Draghi non poteva fare di più su questo fronte. Quando la Merkel nel salutare, dopo essere stato uno dei punti di riferimento non solo dell'Europa ma del mondo, dice che invidia l'Italia per come ha affrontato il problema della pandemia in tutte le sue fasi, quindi nella fase del lockdown, nella fase poi della vaccinazione, dà un riconoscimento che basta di per sé, cioè che un premier tedesco parli bene degli italiani, non credo che ci siano molti precedenti. Quindi io credo che i governi abbiano fatto tutto quello che era possibile fare e i risultati si vedono, si fa quel che si può, perché non è che poi, mancano 6 milioni di persone perché sono circa 6 milioni e 400 rotti, una parte si convinceranno e non sono vaccinati, una parte si convincerà, una parte non si convincerà e dovrà accettare le restrizioni del super green pass, oltre ovviamente a rischiare la propria pelle e a rischiare la pelle degli altri. Guidabardi, anche gli albergatori, quelli diciamo reticenti al green pass, al super green pass dovranno accettare, ovvero reticenti al super green pass, perché tutelerebbe anche voi e glielo chiedo perché una parte degli albergatori chiede una deroga al governo per... Dunque, il green pass ben venga, in albergo c'è il green pass basic, non il super green pass. Quello di base, quello semplice diciamo. Gli albergatori, ed io in prima linea, sono super soddisfatti dell'idea del green pass, hanno detto delle altre cose, gli albergatori ad esempio di confine, quelli che giustamente vedono le prenotazioni che dal sud Tirolo si spostano al Tirolo o da Courmayer si spostano a Chamonix, chiedono che ci sia uniformità di regole in Europa e chiedono che ci sia una possibilità diversa per i clienti che arrivano fuori dalle aree europee dove c'è il green pass, ma sul fatto che il green pass sia un eccellente strumento, non lo dico io, non lo dice il direttore Padellaro, ma lo dicono un milione di persone che nel giro di due giorni hanno chiesto di vaccinarsi. Se ci fosse stato tutto questo pericolo per la salute e la vita, non si sarebbero vaccinate, avevano paura di non entrare in ristorante. Ma voi albergatori siete preoccupati per questo aumento dei contagi che ormai è regolare da settimane? Io faccio una domanda a lei adesso, questa che è la trasmissione, il talk show più seguito in Italia. Si ricorda quando nel marzo del 2020 le dissi che sarebbe durata per due anni? Sì. Perfetto. Adesso con la stessa forza le dico che le conseguenze economiche dureranno per molti più anni e la preoccupazione esiste perché tutto quello che è successo ha lasciato delle ferite e ne lascerà ancora. Quindi economicamente la ferita non è chiusa, la pandemia si avvia grazie a Dio e grazie ai vaccini ad una soluzione, economicamente abbiamo una crisi che andrà avanti ancora per anni. Sei d'accordo Aldo Cazzullo, non solo da un punto di vista economico avremo un long Covid, ma diciamo che è una situazione molto difficile oggettivamente sul fronte pandemico perché ci sono esperti, scienziati, medici che pensano che ci vorranno comunque almeno o due anni per uscire dalla pandemia da un punto di vista medico? No, la situazione non è facile Lilli, però come è stato fatto a notare siamo messi meglio degli altri grandi paesi europei, a cominciare dalla Germania e anche dalla Francia dove si viaggia quasi 50.000 casi al giorno. Sicuramente ha ragione il vicepresidente degli albergatori Sardegh quando dice attenzione che l'economia, adesso sì c'è una spinta, c'è un rimbalzo, ma sarà lunga, non sarà facile, bisogna spendere bene i soldi del PNRR e non so se siamo attrezzati per farlo, mi sembra che siamo abbastanza in ritardo, però le misure di contrasto della pandemia sono state efficaci, l'alternativa sarebbe il vaccino obbligatorio, ma ho la sensazione che sia una misura che magari in linea teorica sarebbe anche giusta, ma sul piano pratico sarebbe molto difficile da imporre il vaccino e finirebbe per infocolare proteste che adesso si stanno sopendo. Io sono a Trieste che è stata l'epicentro della protesta, Fedriga, governatore sotto scorta, però adesso la protesta si è assopita, è zona gialla, la gente comunque rispetta le regole, quasi tutti attengono la mascherina anche all'esterno, la città è vivace, il paese comunque sta reagendo. Sta reagendo abbastanza dottoressa Luini, siccome lei è anche psicoterapeuta, perché chiaramente parlavamo, siamo partiti con lo sciopero generale annunciato da CGL e Will e abbiamo detto che c'è tutta una parte di paese frustrato in difficoltà oggettiva che viene rappresentato anche in questo modo. Ecco, come si fa a gestire una popolazione con questi chiari di luna, cioè con una prospettiva di pandemia ancora molto lunga? C'è una frustrazione crescente ovviamente. Sì, le rispondo da medico in informazione psicoterapeutica specialistica, ma perché la risposta viene da tutte e due le parti. accettando la situazione, grazie a un'informazione adeguata, si può giungere alla coesione di cui parlavamo prima o accennavamo prima e si può giungere anche a una maggiore cooperazione globale, cioè in ogni situazione di crisi l'accettazione di ciò che è, quindi della differenza rispetto a prima, è la base necessaria per trovare soluzioni e come si fa ad accettare? Avendo informazioni chiare, anche quando ci siano dubbi da esporre, in modo da essere davvero uniti, uniti anche nel dubbio, ma camminare insieme. Ma lei vede molte persone dubbiose, vede molte persone disponibili a cambiare insieme, che clima vede nel Paese? Beh, c'è molta tensione che deriva da un insieme di informazioni che non sempre sono realmente chiare, vabbè questo è normale, però vedo che l'informazione data in un certo modo, quindi senza estremismi, ma con la chiarezza e anche con la necessità di accettare ciò che non capiamo, viene accolta bene. Sinceramente la mia esperienza non è negativa, dipende molto da come comunichiamo. Ecco, in tutto questo, Antonio Padellaro, la politica si deve sì occupare della pandemia, ma si occupa tantissimo anche dell'elezione del nuovo capo dello Stato. E oggi abbiamo visto alla scala di Milano un applauso di sei minuti per il presidente Mattarella con la platea che gridava bis, bis, bis. Cioè, chiaramente questo presidente della Repubblica ha un grandissimo seguito nell'opinione pubblica, gode di grandissima stima e fiducia. Quindi, uno, Mattarella potrebbe cambiare idea, due, tu vedi i partiti che si stanno preparando per l'elezione di un nuovo capo dello Stato? Beh, escluderei un ripensamento di Mattarella, persona molto seria, l'ha detto tante di quelle volte che mi sembra un po' difficile un ripensamento, però c'è un dato di fatto. Visto che il tema è quello del tenere il Paese insieme, no? E quindi, tornando prima, non è che Landini e Draghi siano su due fronti diversi, cercano ognuno per la parte sua. La Lega ha detto stasera che lo sciopero è insensato. Vabbè, è la Lega, è la Lega, fa la sua parte, la conosciamo. Però, ecco, la figura di Mattarella, attenzione, è il cemento che ha tenuto insieme in questi anni, soprattutto negli ultimi due anni, il Paese. Quindi, la successione a Mattarella non sarà semplicemente l'alternanza di un capo dello Stato con un altro degnissimo, ma sarà la fine del settennato di Mattarella e quindi la fine di quella figura che è stata applaudita per sei minuti, ma è che è riconosciuta dall'intera collettività, quasi da tutta la collettività nazionale, come l'elemento cardine del Paese. Quindi, attenzione, che purtroppo sette anni poi finiscono, ma finiscono per Mattarella, con Mattarella nel momento più difficile. Quindi il passaggio è di per sé complicato. I partiti cosa fanno? I partiti fanno quello che devono fare i partiti, stanno cercando degli accordi difficili, complicati per tutte le cose che sappiamo, Draghi, Palazzo Chigi, Draghi, Quirinale, insomma, queste cose, io credo che alla fine saranno sciolti questi nodi. E come avvenne l'altra volta con Mattarella, quando Mattarella era un outsider, nessuno parlava della candidatura di Mattarella e si è rivelato una candidatura eccellente, io credo che anche in questo caso poi i partiti troveranno una soluzione, perché non sarà un capo dello Stato della normale amministrazione, ma sarà un capo dello Stato dell'emergenza nazionale, purtroppo. Aldo Cazzullo, sei d'accordo? Tu pensi che ci sarà un outsider come nuovo capo dello Stato, i partiti riusciranno a mettersi d'accordo? Diciamo che questo povero Draghi, mi viene da dire anche povero Mattarella, Mattarella ha ragione Antonio Padellaro quando dice che il Presidente della Repubblica non sa più come spiegarlo, che lui non è disponibile per un bis, quindi lo escludiamo, lo escludi anche tu e Draghi. Draghi doveva essere il Presidente della Repubblica sicuro al 100% e invece oggi si trova in un bel pasticcio, perché chi dice che senza di lui i soldi del PNRR, tu prima hai detto, non siamo forse mica tanto attrezzati, figuriamoci se non ci fosse Draghi alla Presidenza del Consiglio. Guarda Lili, Mattarella è stato eletto nel 2015 in un momento drammatico della storia non soltanto dell'Italia ma del mondo, sono stati gli anni della Brexit, di Trump, di Bolsonaro, di Marine Le Pen, di Alternative for Deutschland, di Vox e Podemos in Spagna, poi con la pandemia c'è stato un po' un ritorno all'ordine, in Italia avevamo il governo dei Cinque Stelle, che non erano i Cinque Stelle di adesso, e della Lega, si è parlato anche di impeachment per Mattarella, Mattarella ha messo il veto a un Ministro dell'Economia perché si era timore che volesse uscire dall'Euro, adesso abbiamo il governo più europeista della nostra storia con la Lega in maggioranza e con i Cinque Stelle in maggioranza. Mattarella esce di scena da trionfatore, come abbiamo visto anche in questa scena, commovente, dei sei minuti di applauso. La rielezione sarebbe una forzatura e complicherebbe sicuramente le cose intanto per Mattarella, forse anche per i paesi, perché poi tra un anno si vota, magari c'è una maggioranza diversa, ci sarà sicuramente un Parlamento di 600 parlamentari, non di 945, io sono convinto che Mattarella non voglia essere rieletto e sono anche convinto che faccia bene. Capisco poco il PD che palesemente punta a convincere Mattarella, ma guadagnerebbe un anno, però con un eventuale vettore della destra, che al momento sembra abbastanza probabile, è anche il caso della candidatura di Conte rientrata, mi sembra che confermi il fatto che il centro-sinistra è molto debole, mi chiedo che senso abbia insistere così su Mattarella. Ti rispondo anche su Draghi, resto convinto che Draghi in questo momento sia l'unica candidatura che possa tenere insieme il perimetro dell'attuale maggioranza. Certo, il problema è che un Parlamento non voterebbe mai un Presidente che lo scioglie un minuto dopo. Un accordo su Draghi implica anche un accordo su un governo, Cartabio o Franco, che conclude la legislatura. Non è una cosa facile, ma non è neanche facile dire a Draghi, se, come mi pare di capire, il Quirinale gli interessa, digli no, tu non rompere le scatole, stai e vai avanti lì che ci servi lì. Con la sensazione che se Draghi vuole andare al Quirinale sarà difficile dargli dirgli di no. Allora, Guida Bardi, lei è stato per molti anni collaboratore stretto di Cossiga, del Presidente Cossiga, quindi sa bene come sono le manovre di preparazione per l'elezione di un nuovo capo dello Stato. C'è qualcosa di diverso? C'è qualche novità questa volta? Le dico cosa penso. Credo che tutta la questione sia nelle mani del bambino Renzi, il quale bambino deve dire se vuole più bene a nonno o a babbo. Cioè, se vuole più bene al Presidente Mattarella, che secondo me, e mi dispiace, mi addolora non essere d'accordo con Antonio Padellaro e Aldo Cazzullo, è attualmente quello che potrebbe essere eletto con maggior facilità o se invece Renzi vuole più bene al suo babbo Berlusconi e dunque porta i suoi voti dalla parte di Berlusconi e di un candidato di centrodestra. Vedo che sorride Cazzullo e Padellaro non è tanto d'accordo. Facendo i conti, i due blocchi hanno bisogno dei voti di Renzi e Renzi ha dimostrato a tutti quanti noi in questo periodo di essere veramente spregiudicato nel sapere utilizzare i suoi voti. A meno che non si mettano d'accordo su un nome come quello di Draghi. A meno che non ci sia una candidatura unitaria che attualmente non mi sembra l'orizzonte, in quel caso le dico che io vorrei una donna, chiederei una donna e spererei che si orientassero su una donna in questo caso. Però è tutto nelle mani di Renzi, mi dispiace dirlo, so che non gode di estreme simpatie da qualche parte. Si può pure fare a meno di Renzi in questo paese. Io ne ho fatto a meno sinora, però ogni volta che si è messo in mezzo per rovinare la minestra è riuscito perfettamente a farlo. Ma credo che questa volta non glielo consentiranno. Non glielo consentiranno Aldo Cazzullo? A tanti deputati, no? A un gruzzolo importante. Renzi sta votando ormai sistematicamente con il centrodestra, quindi in teoria il centrodestra è il blocco più forte, ma se lo schema dell'elezione curinale fosse giocato centrodestra contro centrosinistra sarebbe una forzatura gravissima e il giorno dopo non c'è più il governo Draghi, perché è chiaro che chi perde si sfila dalla maggioranza a far cadere il governo. Quindi una soluzione condivisa è fondamentale. non soltanto per il Quirinale, ma anche per Draghi, se Draghi resterà a Palazzo Chigi. Quindi in questo momento i Renzi, i Renzismi, non li vedo centrali, anche se lui ovviamente dice di essere fondamentale per la storia repubblicana. Ma dottoressa Luini, lei ha una qualche preferenza per il nuovo capo dello Stato? Una donna. Ci vuole armonizzazione, ci vuole empatia, ci vuole capacità strategica, ci vuole nervo saldo. Una donna. Una donna. Questo ce lo auguriamo in tanti. Avrei una cosa rapidissima ancora da chiedervi. ha creato malumore. Accenava prima, tu forse l'hai detto, la rinuncia di Conte a candidarsi a Roma per prendere il posto di Gualtieri, un posto che ha offerto il Partito Democratico. Non è stata gestita proprio tanto bene? È stato poco coraggioso Conte? No, guarda, io penso, insomma, l'oggettività dice che l'offerta di Letta era certamente un'offerta in perfetta buona fede, collaborativa, ma era un'offerta sbagliata. Perché se Conte avesse accettato, e meno male che Calenda si è messo di traverso, avremmo trovato un ex Presidente del Consiglio, che ha in questo momento la responsabilità di gestire un Movimento 5 Stelle che è versa in gravi difficoltà, il quale si fa eleggere come un membro della casta, quando il Movimento 5 Stelle inveiva contro la casta, e tra l'altro nel momento in cui deve girare l'Italia per mettere insieme i cocci di questo movimento, diventerebbe un assenteista, come giustamente ha detto, quindi io credo che Calenda e Renzi mettendosi di traverso gli abbiano fatto un grande favore a Conte, e nel loro interesse se fossero stati furbi l'avrebbero dovuto lasciare andare avanti, però non sono furbi, ecco perché Renzi non è quello che decide tutto, perché non è furbo. Sorride Aldo Cazzullo, telegrafico? Telegrafico, io penso però che Conte e Letta debbano trovare 200 candidati forti nei collegi uninominali, un terzo dei prossimi parlamentari, se non cambia la legge elettorale, sarà letto nei collegi uninominali. Il modello c'è già, il modello Napoli, il modello Manfredi, Manfredi non era targato né PD né 5 Stelle, ex Ministro, ex Rettore dell'Università, ha vinto il primo turno con oltre il 60%, non è facile trovare 200 Manfredi, non ci sono, però se i PD e i 5 Stelle trovano candidati credibili, spesso presi dalla società civile, se la possono giocare nei collegi uninominali, se no fuori dalle grandi città e fuori dalla solita Emilia, dalla solita Toscana, i collegi uninominali lo prendono il centrodestra che è diviso ma è molto forte. Ecco, allora, torniamo allo scontro con il sindacato che parte dall'importantissimo tema della lotta alle disuguaglianze. Sentite Paolo Pagliaro. Si fa un grande scutero di disuguaglianze, ma tra sei mesi la parola verrà a noia e si farà finta di aver risolto il problema perché si smetterà di parlarne. È il timore di Fabrizio Barca che insieme ad altri 11 studiosi ed esperti si cimenta, invitato dall'editrice libera età con il problema numero uno del nostro tempo. Il libro si intitola Uguaglianza e curato da Andrea Crescenti e fa giustizia di molti stereotipi. Michele Raitano, ad esempio, ci spiega che il lavoro povero, cioè meno di 1000 euro lordi al mese, non nasce perché il padrone non rispetta i minimi contrattuali, ma perché c'è una diffusione enorme, macroscopica, del part-time involontario. Dai dati dell'Inps risulta che attualmente il 30% dei dipendenti ha un contratto a orario ridotto, percentuale che sale al 50% per le donne. Dunque lo sfascio è provocato non dalla quantità di salario, ma di ore lavorate. Un altro intervistato, Massimo Cacciari, invita a non inseguire una stratta idea di uguaglianza, visto che nasciamo diversi, e pensa che dovremmo essere solidali, non uguali. La giurista Lorenza Carlassare sottolinea la portata rivoluzionaria di una Costituzione che allo Stato assegna il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di avere le stesse opportunità, esercitare gli stessi diritti e coltivare gli stessi sogni. E il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, nota che in questi anni è diminuito lo scandalo che le disuguaglianze dovrebbero provocare. Ci si è a suoi fatti, ma la disuguaglianza produce odio e l'odio a sua volta produce disuguaglianza. È un meccanismo perverso che in questi mesi abbiamo potuto osservare da vicino in molte piazze reali e virtuali. Siamo in chiusura, grazie dottoressa Luini, ricordo il suo libro per Mondadori, Parla come ami, e grazie Aldo Cazzullo, ricordo il tuo libro che è da mesi in classifica, Il posto degli uomini, pubblicato da Mondadori. Grazie Antonio Padellaro, grazie Giuliano Guidabardi, grazie spettatrici e spettatori. Vi lascio a Giovanni Flores al suo di martedì, quindi state con noi e noi come sempre domani 8 e mezzo. Arrivederci.